Mi hanno detto che sono libere per domani sera, chi vuole fare il weekend è importante, le vacche sono libere, così, giusto per. Vi sta dicendo di nuovo che è libera per il weekend, ma è un po' troppo libera secondo me. Ragazzi buongiorno, oggi vi porterò un video diverso dal solito, la GoPro è rimasta a casa, sarà tutto solo drone, partenza da Collere che ho appena lasciato alle mie spalle, dove c'è l'oratorio c'è un bel parcheggio gratuito, diciamo così pochi posti ma è comodissimo, si sale di qua, la destinazione è la diga del gleno, la giornata è buona, nello zaino abbiamo il drone, quindi bando alle ciance, mi faccio i miei 15 km di salita circa, abbastanza impegnativa, ci sono dei punti, dicono, dove si dovrà fare a piedi, perché neanche in bici si può fare, e basta, bando alle ciance, un po' di paesaggio, ok, e adesso si pedala, poi vedremo cosa esce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene ragazzi, il video di oggi lo concludiamo qui, alla Fontana di Pianezza, un paesino molto carino, piccolino ma molto molto carino, molto suggestivo, rispetto alla traccia che troverete in allegato, vi sconsiglio la parte centrale, che era un sentiero che non sono riuscito a portare a termine per salire, poi, grazie a persone che camminavano a piedi, mi hanno suggerito di arrivare qua, quindi, se partite anche da Collere, come sono partito io, fatevi l'asfalto fino qua a Pianezza, che è un po' vallonato, ma non ci sono problemi, e poi iniziate a salire per la diga da questa stradina qua, da questo borgo, dal borgo di Pianezza, entrate, e ci sono anche qua dei muri, ci sono anche qua dei pezzi da fare a piedi, però dall'altra parte, dove stavo salendo io, da dove vedrete la traccia, è proprio molto, cioè, è impraticabile. Mi sento in dovere di consigliare di farlo a piedi, la bicicletta la possiamo anche lasciare a casa, perché, sì, da questo lato, metà è pedalabile, metà no, però, sono poi da qua, circa, tre chilometri e mezzo, si possono fare tranquillamente a piedi e senza l'ingombro della bici. Detto ciò, vi ringrazio a tutti per la visione, spero che le dronate siano uscite bene, che siano esaustive, vi ricordo di seguirmi su Instagram, perché anche oggi ho fatto qualcosa, qualche live, qualcosa, così sapete dove vado, cosa faccio, iscrivetevi al canale, e alla prossima! Sbababum bam 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 bam, come lo chiudo questo video? Lo chiudo così!